Il Presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali, i 70 di aria e le presidenze generali delle organizzazioni auxiliarie della Chiesa per il Sostegno. Il coro quindi canterà la luce del Signore. Dopo il coro ci parleranno gli anziani Joseph B. Wirtland e Jeffrey R. Holland del Quorum dei 12 Apostoli. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, leggente, rivelatore e Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Ehring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Hochdorf come secondo consigliere della prima presidenza. Quelli in favore lo manifestino. Quelli contrari se ve ne sono possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Parker come Presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti membri di quel quorum. Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirtland Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland David A. Benner Quentin L. Cook E. D. Todd Christopherson Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore lo manifestino. I contrari se ve ne sono lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare l'anziano Earl C. Tingey quale membro della presidenza del Quorum dei 70 e gli anziani Earl C. Tingey e Sheldon F. Child quali membri del primo Quorum dei 70 e nominarli a autorità generali emerite. Si propone anche di rilasciare gli anziani Gerald N. Lund e Robert R. Staur, quali membri del Quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli, per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Si propone di rilasciare gli anziani George R. Royas e T. Lamar Slate come 70 di area a partire dal primo novembre 2008. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento possono manifestarlo. Si propone di sostenere l'anziano J. E. Jensen come membro della presidenza dei Quorum dei 70. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni anziliarie come attualmente costituite. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Grazie.